Mio papà mi ricordo solo, io ero molto piccolo, avevo quattro anni, però mi ricordo quando sono venuti i tedeschi, hanno puntato il fucile, hanno portato via mio papà e poi in più hanno portato via tutta la stoffa che c'era lì nel negozio, hanno svuotato e poi sono andati via. L'hanno portato in campo di concentramento, dopo l'anno è morto, l'hanno messo nel forno di crematoio ed è morto là. Abbiamo fatto questo percorso conoscendo, abbiamo saputo che c'era questo concittadino morto nei campi di sterminio a Mauthausen e assieme alla famiglia Lampi di Varese che ci ha procurato tutta la documentazione, ha fatto la ricerca storica perché non avevamo documentazioni in merito. Con l'amministrazione siamo riusciti, dopo lunghe e penose ricerche, a ricostruire parte della vicenda del nostro concittadino Magnaghi. Oggi abbiamo concluso questa manifestazione con una presenza numerosa di cittadini, oltre ai ragazzi delle scuole, che hanno portato questo saluto a un nostro concittadino che era dimenticato.